Sono tanti i positivi o coloro che sono costretti a fare la quarantena tra i vigili del fuoco siciliani. La variante Omicron preoccupa il sindacato di categoria che chiede maggiori tutele come mascherine FFP2, tamponi e altri dispositivi di sicurezza. Beh, la variante Covid sicuramente sta creando tantissime difficoltà all'interno del soccorso tecnologente dei vigili del fuoco in Sicilia. Domani avremo un incontro con la direzione regionale anche sulla problematica Omicron e Covid-19. Noi come organizzazione sindacale USB Vigili del Fuoco Sicilia chiederemo di effettuare tamponi, quei tamponi che sono buttati nei magazzini ai vigili del fuoco anche per poter rientrare in servizio. Tantissimi colleghi che sono positivi hanno serie difficoltà a contantare gli organi di competenza per poter effettuare questi tamponi per poter rientrare in servizio. Stessa cosa per chi è in quarantena. Pertanto noi come organizzazione sindacale vogliamo che l'amministrazione tuteli i vigili del fuoco anche per una questione di supporto psicologico perché il Covid-19 colpisce anche i vigili del fuoco perché siamo fatti di carne e ossa. Questo sta mettendo in ginocchio veramente il soccorso tecnologente. Ora sta arrivando la nina, una forte ondata di gelo. Sicuramente gli interventi aumenteranno e i vigili del fuoco avranno grosse difficoltà. Oltre a questo vogliamo che venga attuato quello che era stato discusso durante la conciliazione nazionale cioè dell'autonomia di uomini e mezzi per quanto riguarda la Sicilia. Noi staremo sempre suppersi per la tutela e la salvaguardia sia dei vigili del fuoco stessi che della popolazione.